amici di corse di moto tv continuiamo qui dallo spino il percorso conoscitivo dei mezzi un po più interessanti siamo con daniele fritz ciao daniele ciao ciao a tutti ora voi penserete ma a file scusa i mezzi più interessanti è uno scooter sia fermi tutti calma parte il fatto che questo è il campione italiano dell'anno scorso della categoria entry ma poi daniele noi vediamo uno scooter vediamo lo zippetto come lo chiamo io ma dal fuori dal fuori perché raccontaci un po in breve tutte le modifiche che tu hai fatto allo zip piaggio per farlo diventare la belva scatenata che vedete nelle immagini e diciamo che le modifiche sono state quasi in tutto lo scooter per interessa il telaio diciamo dello zip si parte dalle sospensioni blocco nuovo cilindro nuovo radiatore maggiorato è stato cambiato qualunque pezzettino micro quando mi parli di pistone che cilindrata ha questo scooter questo scooter ha una cilindrata di 100 cc può può scatenare anche 37 37 cavalli 37 noi non arriviamo a 37 insomma diciamo che ci bastano i nostri 34 35 infatti stavo per dire allora facciamo che siano 35 ma il peso quant'è peso lo scooter 70 kg più o meno io sono 62 quindi ovviamente abbiamo un cavallo ogni due chili abbiamo un rapporto peso potenza praticamente pari alle 500 due tempi del moto mondiale di 30 anni fa più o meno e allora queste modifiche le hai fatte tu cioè metti tu le mani sullo scooter o le fai fare a qualcuno no assolutamente ho provato nel 2021 a mettere le mani sullo scooter meglio lasciar perdere portato lo scudo da un preparatore a livorno praticamente diventato un amico più che un preparatore da nico morelli con la sua officina naturalmente infatti lo ringrazio perché mi ha allestito in motorino che praticamente io metto solo miscela accendo e vado e va sempre anche fortissimo dovete sapere che nella categoria entri ci sono diverse moto diverse cilindrate ora voi vi chiederete quanto costa allestire un mezzo di genere perché giustamente no nella testa delle persone c'è beh probabilmente questa è la categoria un po più aggredibile economicamente allora daniele dacci un'idea di tra scooter metter tutti i pezzi che ne tu quanto ci vuole per avere un mezzo adesso il suo è super performante però dacci un'idea diciamo ora qualcuno mi picchierà a casa sicuramente ma diciamo che superiamo tranquillamente i 10.000 allora facciamo così con 10.000 euro vi portate a casa tutto il pacchetto immagino che tu abbia comprato uno zip non nuovo l'abbia usato poi l'abbia l'abbia come dire espiantato uno zip da gara comprato nel 2019 quando la categoria era 70 e praticamente da quello è rimasto il telaio e il resto tutto nuovo insomma con 10.000 euro comunque vi mettete in casa un mezzo avete sentito 70 kg 35 cavalli un bel mezzo con cui vi divertite anche mi toglie una cosità daniele perché hai scelto di correre in questa categoria che è un po no nella nostra nel nostro pensiero resi un po vinta cioè negli anni un po di anni fa noi andavamo tanto gli scooter le gare con gli scooter adesso un po si è placato al fenomeno ma tu insisti perché è perché a parte sono cresciuto le prime gare che ho visto in salita ho visto la sillano prada arena e gli scooter erano numerosissimi erano tipo una ventina di scooter quindi da ragazzino sei subito innamorato dello scooter poi quando nel 2018 l'ho provato finalmente ci ho lasciato il cuore qual è l'aspetto di guida più difficile da apprendere per guidare al meglio un mezzo del genere che a parte la confidenza che devi dare al mezzo perché ruote piccolissime quindi le disconnessioni le senti da morire e il fatto di non avere niente qua fra le gambe che ti devi buttare tantissimo fuori dallo scudo mentre devi stare sempre fuori allo scudo e per riuscire a far bene le curve come la moto gp di ad oggi bisogna appendersi bisogna appendersi ma la cosa impressionante e non solo quanto va su forte veramente questi e queste pieghe che fai poi ogni tanto lo si lancia però forse questo è un aspetto positivo di un mezzo del genere anche lanciandolo non si fanno i danni che si fanno in realtà sulle moto più grosse perché il peso facilità nella velocità ma anche nell'impatto a terra o contro una balla sono 70 kg una moto 200 kg è un impatto diverso allora lanciamo un un bel un bel appello perché i giovani vengano a provare una gara con lo scooter daniele venite venite vi aspettiamo anzi più siamo più scudere siamo magari torneranno anche un po in voga perché il pubblico insomma quando passiamo piace il pubblico devo dire scooter e quad sono i più gettonati perché è perché sono i più spettacolari poi belle le moto mille ci mancherebbe i motard e i sidecar però voi è vero perché uno non si aspetta lo scooterino che vada su come la canonata effetto buccato magari anche ottico vedi passare uno scooter che passa a 120 130 fa impressione diciamo con il sound e due tempi che un urlo quindi bravo daniele e in bocca al lupo per la stagione posso ringraziare i miei sponsor adriano caffè bs meccanica il mio amico alessandro filippi come tutti gli anni ci passa alle gomme e poi volevo salutare gli amici della moto porchetta che per loro abbiamo installato anche un maialino la moto porchetta andava ringraziata mi sarei arrabbiato se non avessi ringraziati bravo daniele bravi a tutti coloro che ti sostengono perché lo sapete le corse costano e servono anche i partner bravi bocca al lupo grazie grazie